Tra i vari punti all'ordine del giorno, ieri in Consiglio Comunale a Fano avete parlato anche di questa variazione di bilancio. Che cosa è emerso e che cosa è stato deciso? Siccome c'erano alcune voci particolari, di fatto questa delibera non è stata bocciata dalla maggioranza dei consiglieri comunali presenti. Quindi è stata una sonora bocciatura per la maggioranza attuale, anche se questa maggioranza attuale sembra che sia un po' allo sfascio, perché c'erano assessori che contemporaneamente ieri avevano degli incontri, assessori che hanno lasciato il Consiglio Comunale durante la seduta. Non è stato un bello spettacolo. Che cosa c'era in questa variazione? Esatto, in questa variazione in specifico c'erano diverse voci, c'erano tante cose che erano condivisibilissime, come per esempio l'acquisto della casa per il museo all'orto di mare a metà origlia per 65 mila euro, l'aumento dei ticket per i dipendenti del Comune, da 5 euro e 25 a 7 euro che doveva decorrere il primo luglio. Speriamo perché per questo almeno si faccia in tempo a fare qualcosa per far sì che i dipendenti comunali possano avere questo aumento del ticket. C'erano tante voci che erano condivisibili. C'era per esempio il finanziamento per eliminare a Porta Maggiore quello brobrio che sta da mesi lì per fare una struttura con l'ok da parte della sovrintendenza. C'erano tantissime voci che erano anche, attendevamo da tempo, però c'erano anche alcune, come per esempio i 100 mila euro in più per la pista del pump track, che sembrava che quelle macerie che hanno trovato erano cadute dal cielo, ma si sapeva benissimo che c'erano quel tipo di struttura lì precedentemente. Oppure i mitici oramai 30 mila euro per la relazione di fine mandato da parte del sindaco, 20 mila euro per la stampa di Deppliant, 10 mila euro per un evento, alla cui domanda fatta da diversi consiglieri, personalmente da me, dal consigliere Marcheggiani, da un consigliere della Lega, il sindaco non ha assolutamente risposto, quindi non ci ha fatto sapere questo evento, che tipo di evento sarebbe stato, ma con 10 mila euro sicuramente sarà un bellissimo e un costosissimo evento, che ha fatto saltare dalla sedia diversi consiglieri e probabilmente questa è stata la molla scatenante che ha fatto sì che alcuni consiglieri si assenessero o addirittura votassero contro anche della maggioranza. Dopo questa sonora bocciatura speriamo che l'amministrazione comunale, gli assessori e tutta la giunta si passi la mano sulla coscienza, stracci le voci che sono più contestate, presenti negli ultimissimi consigli comunali, perché fra un mese ci sarà solo la gestione ordinaria, quindi questo tipo di delibere non saranno più possibili, presentino una delibera con meno voci, con quelle voci che possano essere votate da tutti i consiglieri comunali che la cittadinanza aspetta da diversi mesi.